Buongiorno ragazzi e benvenuti a un altro video e forse benvenuti al primo di quello che chiamerò i daily check ins qua su youtube Negli ultimi giorni ho filmato un sacco di video che volevo mettere su youtube ma poi letteralmente oggi che mi sono messo a editare il primo di uno di questi video E' lì che tipo capisco il motivo per cui non sto postando così costante Ho pensato invece di semplicemente tenermelo dentro oppure fare un video un po' deprimente, depresso e stressato Provare a fare un video con una certa lezione che magari può aiutare alcuni anche tra di voi Se mai avrete o vivrete in un momento del genere o state vivendo e passando un momento del genere Ormai io dico che il tempo per fare qualsiasi cosa c'è sempre Quindi ogni volta che usiamo la scusa del non ho tempo secondo me non è una scusa così valida perché il tempo c'è sempre Poi ovviamente può essere più difficile per alcuni di noi o più difficile per altri di noi In alcune circostanze dove effettivamente abbiamo così tante cose da fare che il tempo materiale è difficile Ok? Perché magari ci sono alcuni di noi che lavorano a turni, lavori di notte quindi sei tutto un pochino scombussolato E quindi da lì posso capire che la scusa del non ho tempo per fare qualcosa può essere una scusa più valida che per altre persone Ma solitamente non è mai il tempo perché uno si può sempre svegliare un'ora prima, può andare a dormire un'ora dopo Può completamente eliminare qualsiasi tipo di distrazione, smettere di stare sui social ad esempio Che probabilmente molti di noi ci trascoliamo un po' di tempo, più tempo di quanto non pensiamo Ma per me non è più il tempo, è proprio l'energia È tipo lo spazio e quell'energia mentale che io mi sto accorgendo sempre di più Che se ci metto troppa roba sul mio piatto che devo fare Per quanto amo farlo e sono fatto così, mi piace provare nuovi progetti Mi piace essere diviso su un sacco di cose da fare perché mi mantiene come dire Quella novità che altrimenti se mi focalizzo solo su una certa cosa non ho questa novità E quindi dopo un po' mi stanco Però il problema di avere e dire di sì a tutte queste cose, iniziare tutti questi progetti È che letteralmente iniziamo a riempire il nostro piatto con tutte queste cose da fare E a una certa, sta roba potrebbe iniziare a uscire Quando esce per un tot di tempo abbastanza lungo e non facciamo niente per provare a rimettere la roba dentro il piatto Quello che succede è che letteralmente ci porta un pochino in overdrive Io parlo per me stesso Mi sono accorto ad esempio che nell'ultima settimana mi sono detto Ok, era una scusa il fatto che non hai tempo per fare content, facciamo content Allora ho filmato tipo 8-10 video sit down tra informativi e non Poi però penso, ok, adesso li devo editare Però voglio renderli carini perché comunque ho un tot di gente sul mio canale Mi seguono anche, mi hanno iniziato a seguire del contenuto specifico comunque di una qualità di un certo livello C'è un certo baseline, un certo threshold Che quindi io mi auto impongo che prima di postare questi video devono rispettare una certa qualità, una certa threshold Però quello cosa vuol dire? Che io devo filmare, perché metti che voglio mettere degli overlay nel video Devo filmare quando vado in palestra Cosa vuol dire però? Che quello che era un progetto, metti, chiamiamolo un progetto Che era filmare e postare su YouTube per dire che quello che viene dentro è filmare il video Poi lo devi editare, però poi se lo devi fare di una certa qualità Devi filmare clips overlay e metti dell'alleamento E quindi io mi devo filmare in allenamento Quindi questo progetto che doveva essere magari di quella mezz'ora per filmare Un'ora o due ore per editare Inizia ad espandersi e adesso si espande e prende anche il mio tempo di allenamento Io però in questo momento avendo tutte le altre cose da fare Mi piace quando vado ad allenarmi senza niente che non mi devo filmare Perché? Perché è tempo per me E io so che se io mi tolgo pure quel tempo Sarò semplicemente più scazzato e più su di giri Perché quel tempo è il mio tempo È il mio tempo che mi prendo per migliorare me stesso Per stare con i miei pensieri come tanti di noi con l'allenamento Eccetera eccetera Quindi vedete che piano piano Non è una questione di tempo È una questione di quanto spazio ed energia mentale hai Che ahimè, almeno per me Arrivo a un certo momento ed è cut È tipo più di quello Se io continuamente inizio a spingermi sopra quello A una certa è dove vado in burnout E a una certa è dove invece di muovermi e continuamente andare avanti Muovermi davanti e fare un passo dopo l'altro Mi blocco perché mi sento che ho troppe cose che devo fare allo stesso tempo E invece di prendere una per una e riuscire ad andare avanti Proprio è una cosa mentale, è uno spazio mentale Anche se cioè il tempo, magari l'energia che tipo non c'è più E non so più a dove dedicarmi e quindi mi fermo completamente Una sorta di paralisi Paralysis by analysis E probabilmente anche voi Se siete persone che prendete sempre un sacco di cose Stavo parlando con un ragazzo del coaching, Tony Che letteralmente gli avevo detto Bro, prima di entrare in palestra Tipo prendi di quei 5-10 minuti in cui letteralmente stacchi Perché andava in palestra subito dopo il lavoro Quindi tornava dal lavoro, si fiondava in palestra Si fiondava a casa, mangiava eccetera eccetera E si facevano tardissimo Perché ovviamente è un ragazzo che si dà un sacco da fare Io gli ho detto Prova a prenderti quell'ora di palestra per te stesso E prima di entrare in palestra Per farsi di continuamente riuscire a spingere E essere concentrato e sovraccaricare Prendi di quei 5 minuti prima di entrare in palestra In cui metti un po' di musica, chiudi gli occhi, ti carichi, visualizzi Eccetera eccetera E mi aveva risposto che non aveva tempo per farlo E io ho detto Cavolo, non hai tempo per prenderti 5 minuti prima dell'allenamento Ovviamente passa un po' di tempo E capiamo tutti e due che in realtà non era il tempo Il fatto che era andato così tanto in overdrive Per tutto lo stress che aveva che circostante Che anche solo il fatto di prendersi 5 minuti di tempo Prima dell'allenamento per caricarsi e pomparsi Gli sembrava di non averlo a disposizione Proprio perché nel cervello aveva così tante cose che doveva fare Così tanti obiettivi doveva colpire Doveva finire il lavoro, doveva mangiare Doveva andare in palestra, doveva finire la palestra Da tornare a casa, doveva mangiare, doveva lavare, doveva fare Eccetera eccetera, doveva preparare per il giorno dopo Che in testa sembra che non hai tempo In realtà è il fatto che sei in overdrive E abbiamo tutti gli stress ed energie E so che per chi non ha così tante cose da fare Starete dicendo Maggi ma che stai dicendo? Ma non è possibile questa cosa Io ti prometto Che se stai studiando una cosa intenso Immagina lo studio Aggiungici un lavoro Aggiungici a un altro progetto Aggiungici un altro progetto Aggiungici un altro progetto Aggiungici un altro progetto Fidatevi che a una certa le cose possono diventare particolarmente impegnative Proprio a livello mentale Non solo di tempo Ma proprio di quanto riesci a dedicare ognuna cosa Ed essere tipo presente al 100% con i tuoi pensieri Quindi questo è solamente un video per dire cosa Fai un audit della tua vita E delle cose che fai Fai un audit di quanto ti stai impegnando veramente per portare a termine alcuni obiettivi Che hai Ovviamente se tu sei soddisfatto con la tua vita e stai facendo le tue cose Sti cavoli Non mi ascoltare Se invece sei una persona che vuole Comunque come dice il Kaisen Continuamente imparare Che vuole raggiungere un po' di più Che vuole tipo mettersi in gioco Che vuole e ha dei sogni nel cassetto E vuole portare a termine degli obiettivi Se tu sei quella persona lì Io sono quella persona lì E tutte le persone con cui mi circondo Sono un pochino così Che non accettiamo mai dove siamo arrivati Ma vogliamo sempre continuamente spingere un pochino E appunto Una delle cose difficili A cui sicuramente andrai incontro a una certa È appunto Che hai un piatto E ti sembra che c'hai così tante cose da fare Che non riesci a A veramente Riuscire a separare E ad avere abbastanza energia per farlo La soluzione Che è questa soluzione Che penso anche io È accettare che ci sta un minimum viable product Ok? Quindi un minimum viable product Se avete studiato ingegneria O avete studiato business O avete un master in qualcosa Però ovviamente l'avete L'avete sentito parlare Un minimum viable product cos'è? È praticamente il prodotto minimo Che comunque dia il massimo valore Per quel minimo prodotto Alla persona finale E per me cos'è raga? Cioè Io amo YouTube Amo la comunità che abbiamo costruito Amo la nostra famiglia Amo tutto di questo Mi piace filmare Mi piace postare E non mi blocco lì Mi blocco dopo Mi blocco perché filmo E poi dico Ok lo devo editare E poi però devo andare in palestra E rifilmare Perché lo devo rendere carino Deve essere di un tot di qualità E di conseguenza Questo poi mi fa sì che io non posto E passano settimane E passano mesi che non posto Nonostante io Questo sia una delle cose più belle Per me e più Lo so che sembrerà strano Perché direte tipo Maggi Magari stai facendo questi video Per convincerci Ma come posso Come posso farvi capire Tipo Se io non dovessi fare niente Ok? Quindi togliamo tutte le cose Che io devo fare ogni giorno Se ci fosse una cosa Che io farei sempre È questa Accendere la telecamera E parlare direttamente a voi Perché quando voi mi mandate i messaggi E quando mi dite Che vi state spingendo Che state migliorando Le testimonianze E il feedback che mi date Quando vi incontro dal vivo Tutti i ragazzi del coaching Che seguo Che tipo si fanno il culo Fanno tipo due lavori Tre lavori Cioè chi lavora di notte C'ha 18 anni Siete tutti intraprendenti Tutti i ragazzi Che si danno da fare E io so che il valore Che io posso dare È questo Il valore che io posso dare a voi È tipo accendere la telecamera A farmi vedere per chi sono Portarvi con me ovviamente Nel mio percorso Ma spingere voi A dare il vostro massimo E so che questo È quello che farei sempre Mi piace fare Ma Viene dopo una lunghissima lista Di altre cose Dove appunto Devo per forza di cose Metterci la mia attenzione E la mia energia Perché è come una pianta Devo tipo Tutti questi business I progetti Tipo Sono come una pianta Gli devi dare un po' di acqua Un po' di sole Gli devi far crescere Gli devi coltivare Gli devi tagliare ai lati Gli devi ottimizzare Gli devi rendere più efficienti E io amo fare quello Like mi piace tantissimo Però mi piace anche tantissimo E non lo vorrei fare a discapito Di tipo avere una connessione Con voi E parlare a voi E provare a dare a voi Un po' di più Un po' di più Perché poi sparisco per tre settimane E mi dico Vabbè Sei proprio un cretino Tipo non dovresti sparire Per tre settimane Quindi Tutto questo per dire cosa Che magari farò un errore E magari fra un po' di tempo Lo realizzeremo Che sarà un errore Ma Per ora sto pensando Se a voi va bene Di filmare alcuni video Così Più tranquilli Se vi chiedete Perché sto in macchina È letteralmente il mio ufficio Tipo Sto qua Quando sto qua a Lussemburgo Il fatto che ci sia Poca luce fuori Se sto in casa Mi deprimo E tipo L'ho capito E quindi tipo Lavoro in macchina Perché mi posso spostare Perché ho luce Che entra davanti Dal lato Vabbè Alcuni di voi Sarà Questa sorta di daily check-in Dove vi provo A dare A dire qualcosa O dare qualche valore E quando riesco Farò dei video Fatti meglio In cui ci butto sopra Come la qualità Come era in passato Però se a voi va bene Faccio Accendo la telecamera Filmo Posto E niente E spero che vi possa dare qualcosa Con ogni video Quando faccio così Veramente Io vi apprezzo tantissimo Mi avete cambiato la vita Come dire Ho superato My wildest dreams Con quello che stiamo Stiamo facendo E però sono contentissimo Che Per come sono wired Mentalmente Non mi Non mi fermo qua Perché abbiamo tantissima strada Ancora Da fare Tante cose che io voglio raggiungere Ma che voglio creare Proprio E portare E portare in Italia E piano 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 Questi progetti Verranno A frutto E a galla Come dire Li vedrete in giro Ne sono sicuro E niente Keep improving baby Non si finisce mai È un ciclo continuo È tipo È quello no Se tipo vivi quella filosofia La ingranina per tutto Nessuno nasce imparato Se c'è qualcosa Che tu vuoi fare E non sai fare Si impara Ok Si impara Prendi youtube Guardi 60 video Impari Come col fitness Vuoi sapere cosa fare Guarda i miei video E sai cosa fare Come con qualsiasi cosa E le persone Che stanno più Più in alto di noi Veramente Sì magari hanno accesso A dell'informazione Di un livello ancora superiore Ma in realtà Ci possiamo arrivare Non è che sono L'ipergenetica Perché sono dei geni Ma soprattutto Per epigenetica Per quello che Imparano ogni giorno Per come vivono Ogni giorno C'hanno questo mindset Non hanno un fixed mindset Non pensano Eh io Questa è la mia condizione Attuale Situazione tale E basta Non posso fare niente Per cambiarla Ma no Capisco che in realtà Qualcosina È nel loro controllo Il risultato Non è nel nostro controllo Ma il lavoro Che ci mettiamo dentro Ed azioni giornaliere Quelle sì Quindi tanto vale Che noi pensiamo Alle azioni giornaliere Di quello che è Nel nostro controllo Rispetto A pensare Solo ai risultati E quindi poi essere delusi Quando non ci arriviamo In un tempo determinato Che secondo la società O secondo qualcuno Per qualche motivo Ci abbiamo in testa Che dobbiamo raggiungere Nel quel tempo Ok Quindi sì Mi raccomando Non pensate Che siete meno Di nessun altro L'unica variabile Probabilmente È quella È tipo Quanto è informato Cioè Quanto vuoi migliorare Te stesso Quella è la cosa principale Cosa vuoi raggiungere E poi ci devi credere Dentro di te Devi capire che È tutto nel tuo controllo E puoi anche partire da zero Ma se oggi fai un per cento Domani fai un per cento Dopodomani fai un per cento Alla fine dell'anno Stai trentasette volte avanti A quello che pensavi Anche solo con un miglioramento Di un per cento Proprio per Per la legge Del compound interest E E puoi raggiungere Quello che pensi Veramente Io non Non avrei mai pensato Che sarei stato qua A fare video Era un sogno Era un cavolo di sogno Stavo all'università Nella stanza E sognavo Tipo vorrei fare Influencer Voglio fare il coach Voglio Eccetera eccetera Voglio l'abbigliamento Con Kaisen No It's like Non è che so meglio So meglio io E guarda Ci abbiamo messo anni E ci metteremo altri anni Però È quel fatto di tipo Migliorare sempre Ogni giorno Non sai una cosa Impari Impari Non ti fermi E dici cavolo Non so una cosa Allora non posso farla No Impari Cerchi la giusta informazione La metti in applica La applichi Ci metti costanza E dedizione Tutte queste cose Un video così Probabilmente Spero di riuscire a farne Un altro domani E Niente Scusate per L'assenza E sappiate che io Lavoro Lavoro sulle priorità E lavoro Con Io no Il mio team di ragazzi Del coaching Kaisen E tutti gli altri progetti Penso che stavo contando prima C'ho tipo Sto tipo a 10 progetti In contemporanea In questo momento Quindi è un po' un casino But I fucking love it man I fucking love it E niente Io preferisco Anche solo che siete in mille A guardarmi Ma O anche solo in cento E che possiate cogliere qualcosa E non vedete questi video Solo come motivazione Prendeteli e fucking Agite Mettetevi Cioè Se volete qualcosa Tipo lavorate Lavorate raga E E yeah Sistema Strategia Giuste Riflessioni Testing Eccetera eccetera Ma nei prossimi video Vi parlerò meglio Di tutte queste cose qua Un abbraccione E come sempre Keep improving Ciao ciao